Questo scambio commerciale che già esiste tra il Messico e l'Italia, come ha stato dimostrato con la visita di Renzi al primo ministro al Messico alcuni giorni fa, è un scambio molto importante per i due paesi e la Lombardia, questa associazione su Lombarda, è importante il giorno di oggi per questo incontro che sicuramente sarà molto proficuo per rafforzare questa conoscenza tra le due nostre realtà anche con le aziende che sono già tantissime aziende italiane al Messico, è un esempio di come l'opportunità tra i due paesi è grande e si è sviluppato attraverso il tempo e per questo oggi è un giorno che sarà per scambiare soprattutto l'informazione e l'opportunità che offre il Messico alle aziende italiane. Ringrazio questa opportunità e auguro un successo, grazie.